Salve amici del Centro Meteo Italiano, goccia fredda in transito e passaggio temporalesco sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 9 giugno. Acquazzoni e temporali al mattino sul nord-est ed Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche in movimento verso il sud e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali più intensi su Abruzzo, Lazio, Molise e Campania e piogge sparse anche sul nord-est e settori peninsulari del sud, più asciutto altrove. In serata è notato ancora fenomeni soprattutto sulle regioni del Medio e Basso del Sant'Adriatico, altrove nuvolosità e schiarite ma con tempo asciutto. Temperature minime, stazionarie e massime in diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra Cappo Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.